Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A1 veicolo in avaria tra chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Vis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna, chiuso lo svincolo di Canili. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. A Firenze, restringimenti e senso unico alternato in via Canova per lavori fino al 31 agosto. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!